Un brutto Sansepolcro, soprattutto nel primo tempo, lascia l'intera posta in palio ai rosso-blu dell'Aquila. La squadra di Pierfrancesco Battistini ottiene tre punti e per l'allenatore subentrato a Morgia, nella panchina della formazione abruzzese, è la prima vittoria in campionato. La prima emozione è al quinto minuto, quando De Santis del Sansepolcro, da metà campo quasi, vede il portiere dell'Aquila leggermente fuori dai pali e prova a sorprenderlo, il suo pallonetto colpisce però la traversa. All'ottavo minuto la svolta della gara, il contatto tra Beers e Noman, iniziato precedentemente forse con un fallo del centroavanti dell'Aquila e poi che finisce a terra proprio il centroavanti, per l'arbitro è calcio di rigore. Dal dischetto va Mini Incleri che realizza con un cucchiaio. Al trentasettesimo si rivede il Sansepolcro con il traversone di De Santis, Mortaro di testa, la sua deviazione però è alta sopra la traversa. La ripresa si apre ancora al quinto minuto con Mortaro, forse l'unico a meritare la sufficienza. Nel Sansepolcro Mortaro dal limite si coordina e colpisce bene la palla che però è fuori dal bersaglio della porta ma non di molto. Al diciottesimo ci prova dalla distanza Terzini, il suo tiro è potente e teso ma fuori bersaglio. Infine l'ultima emozione è quella che avrebbe potuto regalare il pari al Sansepolcro da calcio d'angolo. Terzini a botta sicura colpisce di testa ma il portiere dell'Aquila è superlativo e riesce a neutralizzare. Per il Sansepolcro è sconfitta e può esultare l'Aquila di Battistini.